territorio semplificazioni procedurali della conferenza di copianificazione l'aula di palazzo del pegaso approvato a maggioranza la legge di modifica alle norme in materia di governo del territorio con 21 voti favorevoli 11 astenuti e due contrari il consiglio regionale approva la nuova legge sugli impianti di radiocomunicazione approvate a maggioranza con il voto contrario della lega le modifiche alla legge regionale tradizioni la pasta fresca nella cultura alimentare toscana presentato il volume sulle origini del prodotto culinario curato dallo storico maurizio tuliani e commissionato dalla conf esercenti il consiglio regionale della toscana ha approvato a maggioranza la legge di modifica alle norme in materia di governo del territorio registrando 21 voti favorevoli pd e italia viva 11 astenuti fratelli d'italia e lega e due contrari movimento 5 stelle ad illustrare il provvedimento la presidente della commissione territorio ambiente mobilità e infrastrutture lucia de robertis nel contesto delle misure introdotte per superare le criticità riscontrate nell'attuazione della legge de robertis ha ricordato l'inserimento in legge delle modalità di trasformazione delle serre questione attenzionata dal vice presidente della commissione alessandro capecchi fratelli d'italia mediante specifica mozione sentiamo le parole di capecchi allora il partito democratico per l'ennesima volta ha portato una mini modifica alla legge urbanistica la famosa marzon la 65 14 che conoscono bene i professionisti e i tanti operatori anche del diritto che si trovano all'interno dei comuni hanno portato alcune semplificazioni togliendo cioè la conferenza di copianificazione per alcune ipotesi cioè quella conferenza emette allo stesso tavolo i comuni e la regione per trovare una quadratura dello sviluppo del territorio ma si sono dimenticati come noi avevamo suggerito e ci hanno bocciato gli emendamenti in commissione di semplificare anche i termini per la pianificazione perché i comuni che hanno sempre maggiori difficoltà di personale e di risorse ad acquisire anche necessarie ad acquisire consulenze esterne spesso e volentieri vanno oltre i termini molto stretti dei tre anni per fare il piano strutturale e il piano operativo perché in toscana a differenza in altre regioni si è voluto mantenere la doppia pianificazione questo comporta grandi e gravosi procedimenti che mettono a repentaglio lo sviluppo del territorio e attraverso il regime cosiddetto di salvaguardia quando si superano i tre anni provocano il blocco dell'attività edilizia con un doppio danno cioè i comuni non incassano gli ordini di urbanizzazione e le opere pubbliche che sono connesse a tanti piani attuativi e i cittadini e le imprese non lavorano e non costruiscono quello di cui hanno bisogno pertanto ci siamo astenuti consapevoli del fatto che è l'ennesimo tentativo di adeguare e semplificare una legge che è nata già complicata e che ha avuto bisogno di ben 13 regolamenti attuativi che hanno dato vita a centinaia di norme che mettono in difficoltà i cittadini e le imprese il centrodestra se riuscirà a vincere le elezioni del 2025 in toscana proporrà una nuova legge urbanistica molto più semplice basata su un unico livello di pianificazione un acceso dibattito ha caratterizzato l'approfondimento sulla legge che ha visto intervenire marco landi della lega siamo alla 92esima modifica della legge sull'urbanistica regionale in dieci anni sono circa dieci modifiche l'anno circa uno il mese e si continua a non capire che questa legge andrebbe buttata nel cestino e rifatta ma in realtà chi contesta la legge marzon del 2014 e magari era proprio in consiglio e magari era anche presidente della commissione territorio ambiente oggi evidentemente ha una visione diversa ma governava il pd allora come governa il pd oggi noi sulle semplificazioni di questa legge ci siamo sempre astenuti e anche questa volta l'abbiamo fatto crediamo che una semplificazione serva ma una semplificazione vera e non queste continue modifiche che poi creano molto disagio soprattutto all'interno degli uffici tecnici dei comuni e dei nostri amministratori che magari poi si trovano a dover fronteggiare innumerevoli controverse con altri enti e anche con privati quindi questo è il punto e crediamo che veramente non si possa una volta mettersi una maschera se si parla con certi tipi di associazione e altre volte un'altra serve chiarezza la razio della legge è stravolta e quindi è una legge da rifare e adesso le parole di cristiano benucci della pd legge marson è una legge che mira a salvaguardare il territorio che mira a ridurre il consumo di suolo e quindi una legge opportuna che la si adegui frequentemente è un segno di aggiornarla di semplificare le procedure di snellire la vita dei comuni e di adeguarsi a un contesto mutato con l'intervento di oggi noi facciamo due cose sostanzialmente alleggeriamo la procedura per la formazione dei piani strutturali dei comuni e adeguiamo le norme del che provengono dal testo unico dell'edilizia favorendo la ricostruzione favorendo la ristrutturazione recupero dei fabbricati come commissione siamo intervenuti anche per accentuare le semplificazioni nel tema per esempio del recupero delle acque favorendo l'insediamento di cisterne e anche nell'attività agricola amatoriale senza titolo edilizio abbiamo semplificato anche per i nostri agricoltori la permanenza e la costruzione delle serre che sono tanto necessarie per l'attività agricola da parte dei nostri bevaisti e dei nostri agricoltori quindi un intervento che mira la semplificazione e che lasciando fermi i principi della legge di cui abbiamo ovviamente bisogno sentiamo il commento di stefano scaramelli di italia viva sì una proposta che veniva da italia viva un nostra battaglia che si concretizza soddisfazione per i due voti determinanti di italia viva per consentire la modifica di questa legge che semplifica l'urbanistica nei comuni toscani che limita l'attività della copianificazione che velocizza le opere pubbliche ma che soprattutto crea sviluppo questa era la nostra battaglia politica era un impegno politico assunto nel 2020 quando ci siamo candidati in coalizione a sostegno del presidente gianni oggi che arriva questa legge l'abbiamo voluta votare con convinzione e anche soddisfazione di dimostrare quanto questa coalizione poi nel merito delle questioni sia compatta e nello stesso tempo quanto sia determinante il lavoro e il ruolo che svolge italia viva nella maggioranza non soltanto perché senza i nostri due voti non avremmo avuto la maggioranza dell'aula ma soprattutto perché siamo importanti e propulsivi rispetto alla politica riformista di questa regione infine il consigliere andrea ulmi eletto nelle liste della lega che è entrato a far parte nei giorni scorsi del gruppo misto con la denominazione gruppo misto merito e lealtà allora diciamo che io mi sono astenuto perché nella mancata chiarezza della 60 della legge 65 che è stata più volte cambiata modificata non siamo riusciti a raggiungere ancora un testo che possa essere perfettamente comprensibile ma soprattutto perfettamente utilizzabile perché credo che sia importantissimo un coinvolgimento degli operatori e dei tecnici che devono poi mettere in atto queste questioni per cui sicuramente qualche cosa di buono c'è perché anche il cercare di semplificare un pochino tutto quello che è l'iter autorizzativo è importante sicuramente va nella direzione giusta ma credo che se non abbiamo chiaro noi ciò che vogliamo arrivo raggiungere ancora più difficile lo sarà per coloro che devono metterla in pratica il consiglio regionale della toscana ha approvato con 19 sì 5 no e 8 astensioni la nuova legge regionale di modifica della disciplina in materia di radiocomunicazione approvato a maggioranza anche un ordine del giorno presentato dalla capogruppo del movimento 5 stelle e rene galletti e respinti due emendamenti presentati dalla lega per rafforzare ulteriormente la discrezionalità dei comuni i 20 articoli del provvedimento sono stati illustrati dalla presidente della commissione ambiente territorio lucia de robertis del pd e modificano la legge regionale 49 del 2011 adeguandola alle novità apportate in questi anni dal codice delle comunicazioni elettroniche ad esempio in tema di microimpianti l'assessore regionale alle infrastrutture digitali rapporti con gli enti locali e sicurezza stefano chuoffo del pd si è complimentato per il lavoro svolto dalla commissione con un confronto attento e l'ascolto di tutte le categorie economiche sentiamo abbiamo cercato di cogliere a pieno lo spazio che ci viene affidato dalle competenze che aspettano alla regione non è competenza regionale il grado di emissione delle onde elettromagnetiche le tolleranze queste sono provvedimenti che il comunico che lo stato provvederà in maniera innovativa a breve ci saranno sono già state annunciate innalzamenti dei limiti delle soglie di accettabilità dei campi elettromagnetici ma alle regioni compete la guida e la costruzione degli strumenti idonei a garantire la qualità del servizio la qualità è un concetto ampio che prevede come dire la qualità della connettività la latenza i tempi nei quali si riesce a comunicare e interagire con gli strumenti che l'elettronica mette oggi a disposizione e anche il nostro compito è quello di far sì che siano al meglio evitate le sovrapposizioni che sono leggibili ormai sul nostro territorio ma su tutto il territorio nazionale i gestori in assenza di norme hanno operato cercando di mettere a frutto le leggi del mercato investono ripetutamente sovrapponendosi laddove il mercato a più istanze e non coprono le aree quelle che noi purtroppo chiamiamo aree interne aree collinari montane che sono molto spesso prive di adeguata connettività ora capite bene che con l'evoluzione che c'è stata in questi anni in questi ultimi anni in particolare la connettività diventa davvero un diritto di cittadinanza perché questo sia esercitabile bisogna che ci sia la possibilità di avere connettività rapida diffusa costante e con la minima latenza possibile massimiliano baldini della lega ha detto che il tema è particolarmente importante molto sensibile le comunità sono abituate a confrontarsi sul territorio la lega ieri è intervenuta anche su questa tematica e ha votato contrario a questa proposta di legge in quanto riteniamo che non ci sia stata sufficiente attenzione verso quello che sono le prerogative dei comuni perché i comuni sono i punti di riferimento centrali c'è un tentativo di accentrare il potere della organizzazione e della messa insieme di quelli che sono le nuove normative che riguardano le antenne che rischiano di non permettere ai comuni quell'azione di equilibratura, di confronto fra le esigenze pubbliche penso alla salute, penso ovviamente anche alla necessità che la comunicazione sia facilitata attraverso questi strumenti nelle zone periferiche con quelli che sono gli altrettanto legittimi interessi dei gestori riteniamo che la normativa per come è stata modificata potrebbe ampliare queste problematiche invece che risolverle abbiamo presentato emendamenti che non sono stati accolti e che andavano in quella direzione e quindi inevitabilmente abbiamo votato contrario annunciando l'astenzione del suo gruppo sulla legge il vice presidente della commissione ambiente Alessandro Capecchi, Fratelli d'Italia ha evidenziato che la discussione in commissione è stata molto articolata e il documento arrivato ripropone una questione molto complessa la giunta ha presentato una proposta di legge per modificare la legge regionale 49 2011 alla luce dell'ultima direttiva che impone di fatto agli stati membri di realizzare le infrastrutture per il 5G cioè per l'ultima generazione di telefonini per farsi comprendere e naturalmente di servizi digitali è una norma in chiaro scuro perché al di là di alcune semplificazioni elimina però dall'obbligo di accatastare nel catastro pubblico degli impianti i micro impianti che sono quelli in realtà che stanno riempiendo le nostre città basti pensare che attraverso le audizioni di Anci e d'Arpat abbiamo saputo che in Italia saranno installate nei prossimi anni oltre 100.000 antenne e in Toscana non meno di 7.000 il che vuol dire evidentemente che aumenterà il livello di inquinamento elettromagnetico che dovrà essere tenuto sotto controllo secondo il principio di prudenza che vige a livello europeo Irene Galletti, Movimento 5 Stelle, ha illustrato il suo ordine del giorno poi emendato e approvato a maggioranza e ha annunciato l'astenzione del gruppo sulla nuova legge ci sono due elementi da contemperare e che questa legge potrebbe fare se solo fosse adeguatamente finanziata che è ciò che abbiamo chiesto con l'ordine del giorno le esigenze di rafforzare tutto quello che sono l'impiantistica e le necessità che vengono ad avere una rete digitale efficiente anche nelle aree periferiche cosa di cui la regione parla da anni ma che ancora non è riuscito a fare abbiamo una copertura a aree grigie che ancora non sono coperte e nello stesso tempo tutelare l'ambiente da un eccesso di onde elettromagnetiche per fare questo serve un monitoraggio questa legge potrebbe andare in quella direzione cioè riuscire a fare un monitoraggio di quello che è l'inquinamento ambientale e capire anche quindi dove si possa fare nuovi impianti nuove antenne ripetitori senza però danneggiare eccessivamente l'ambiente soprattutto calcolare quali sono i danni anche i possibili danni per la salute umana questo è un altro aspetto fondamentale però senza dare dei soldi a questa proposta di legge non si saprà né come fare il monitoraggio e soprattutto ancora oggi mancano soldi per fare queste reti di telecomunicazioni e avere la banda larga, la fibra soprattutto per le imprese e per le aziende pubbliche, le amministrazioni e quant'altro quindi di nuovo si tratta di un contenitore importante ma vuoto e questo è stato il motivo della nostra astensione e il motivo per cui abbiamo fatto un ordine del giorno dove abbiamo chiesto di dare gambe economiche a questa iniziativa altrimenti la Toscana e soprattutto alcuni suoi territori continueranno a rimanere indietro e saranno quindi poco appetibili sia per le persone che volano lì risiedere ma anche per le aziende Sentiamo il commento di Andrea Ulmi del gruppo misto Merito e Lealtà Qui si crea l'ennesimo problema tra il progresso e l'ambiente perché è vero che noi si va verso il 5G, il 6G e poi va a sapere che cosa però ci sono le aree interne che rimangono sicuramente penalizzate Qualsiasi azienda ovviamente etimologicamente vuol dire fare profitti e quindi è meno interessata a poter perseguire la copertura di tutto il territorio ma come politica, come pubblico noi dobbiamo fare in modo che questo succeda e senza danni alla popolazione perché sicuramente questo fenomeno delle radiofrequenze con tanti ripetitori potrebbe creare qualche problema di tipo sanitario quindi anche su quello dobbiamo assolutamente vigilare con attenzione Infine le parole di Stefano Scaramelli di Italia Viva Noi abbiamo votato convintamente questa legge che va nella direzione dell'innovazione il 5G serve all'evoluzione, serve allo sviluppo, serve uno sviluppo responsabile ai comuni viene chiesta una grande assunzione di responsabilità la possibilità di definire nei propri territori zone idonee zone sulle quali si possono installare o non installare delle antenne si possono fare dei percorsi di partecipazione e di informazione quindi sia allo sviluppo, sia ovviamente alla tecnologia sia alle nuove tecnologie a servizio della complessità dell'innovazione tecnologica dentro un quadro di grande rispetto del paesaggio toscano e soprattutto della salute dei cittadini per questo è fondamentale definire una legge la Toscana si dota di una normativa innovativa all'avanguardia sotto il punto di vista nazionale e anche internazionale devo dire che le tutele previste dalla nostra normativa sono un unicum la pasta fresca nella cultura alimentare toscana storia e saperi di un'arte antica è il titolo del lavoro di ricerca curato dallo storico Maurizio Tulliani negli archivi di stato di Siena e Grosseto commissionato dalla Confesercenti Siena e Grosseto sull'origine della pasta fresca in Toscana la pasta fresca fa parte della nostra tradizione culinaria si è radicata già all'inizio del Medioevo quando diventa un piatto vero e proprio anche grazie all'influenza araba spiega Maurizio Tulliani nei secoli i due grandi poli furono Siena e Firenze nel Trecento troviamo già dei documenti che parlano della figura del lasagnaio è bello raccontare questa storia in una pubblicazione ha detto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo è bello raccontarla in un libro perché poi alla fine ogni qualvolta si scrive un libro si lascia a chi viene dopo di noi la nostra storia, le nostre tradizioni le nostre qualità culinarie in questo caso la Toscana è terra di tanti campanili ma è anche una terra in cui a seconda del territorio in cui si vive ci sono produzioni differenti di pasta e la pasta è un modo per raccontare la nostra terra la qualità della nostra terra i suoi sapori ed è un modo per costruirci anche turismo enogastronomico spetta a noi continuare a perseguire queste iniziative perché ogni qualvolta si fa memoria si costruisce anche un pezzo di futuro quella della pasta fresca è una bellissima storia ha detto la consigliera Donatella Spadi Bellissima la storia, ancora apprezzata e direi che in genere la Toscana ma il territorio mare grossetano il territorio senese sono territori ricercati anche per la loro enogastronomia e la pasta ovviamente rappresenta direi un massa italiano ma per questi territori ci sa proprio della pasta tipica il famoso piccio senese il famoso tortello mare in mano che diciamo che esportiamo in tutto il mondo e bene ha fatto con Fesergenti insomma a diciamo fare questo libro dove si parla proprio della storia della storia della pasta che ancora oggi si rivela anche un alimento oltre modo salutare che fa parte della famosa dieta mediterranea e sappiamo bene il valore anche salutare di questo alimento La Toscana tutta cerca di promuoversi anche attraverso l'enogastronomia ha detto l'assessore Leonardo Marras Devo dire anche oltre al percorso di ricerca di valorizzazione di una storia e anche la prospettiva per un futuro di valorizzazione con il riconoscimento dell'identificazione giocavia protetta io poi tifo sia per il piccio che per il tortello mare in mano c'è di mezzo anche il fatto che questo territorio la Toscana tutta cerca anche attraverso l'enogastronomia di promuoversi e di farlo attraverso dei valori La vetrina toscana è il progetto che da oltre 20 anni accompagna la promozione turistica dal punto di vista elogastronomico ed incrocia ormai oltre 2000 imprese e naturalmente ciò che pensano questi imprenditori e quindi la possibilità di presentarsi sempre con una carta di identità chiara, autentica, sostenibile è un modello e uno strumento di riferimento che aiuta l'attrattività della nostra regione Abbiamo sposato l'idea perché riteniamo che l'enogastronomia rappresenti la peculiarità del territorio ha spiegato Mayla Bettaccini Noi abbiamo sposato l'idea avuta da Confesercenti Grosseto e Confesercenti Siena proprio perché riteniamo che l'enogastronomia rappresenti comunque le peculiarità del territorio e soprattutto perché Confesercenti Toscana ha creato un percorso legato alla pasta fresca che si è portata dietro già dal 2022 quindi nel 2023 ha fatto anche un percorso formativo rivolto a tutti gli operatori della Toscana proprio per sviluppare, capire come promuovere la pasta fresca soprattutto appunto nei territori di Siena e Grosseto hanno tutta una serie di peculiarità e di caratteristiche che rappresentano il territorio e che quindi lo contraddistinguono rispetto a tutto il resto al resto del territorio toscano insomma che lo fa riconoscere Infine le parole dell'autore lo storico Maurizio Tugliani Cercherò di essere sintetico anche perché se no la pasta scuoce e quindi diciamo che è importante questo piccolo studio che ho fatto e che poi mi è stato chiesto di tradurlo in questo libretto perché sulla pasta fresca che fa parte della nostra tradizione culinaria sappiamo molto ma forse non sappiamo quando si è radicata come piatto a sé stante e quindi questo percorso vuole riportare e far chiarezza quando dal passato diventa un piatto vero e proprio e lo diventa all'inizio del Medioevo e quindi siamo proprio dentro la nostra cultura italiana toscana e quindi la pasta comincia a perdere il ruolo di accompagnamento agli altri piatti come lo era in epoca romana e diventa pian piano devo dire anche grazie all'influenza araba anche se stiamo parlando di pasta fresca e non di pasta secca come piatto a sé stante che diventa sempre più protagonista nei menu prima medievale e poi rinascimentali grazie